Marcellino Bragagnolo, presidente della Fiera di Osei di Annone Veneto, 35esima fiera, siamo pronti al via, come stanno le cose? Buonasera a tutti, le cose stanno andando avanti, ci stiamo impegnando, diciamo che quest'anno è un anno un po' particolare, 35esima non è uno scherzo per noi annonesi, è una cosa un po' più grande del solito, vogliamo fare una bella cosa e quindi siamo qua, non in partenza, siamo partiti, andiamo avanti, stiamo lavorando, ci stiamo impegnando al massimo per creare quello che può essere una bella giornata e che sia un bel stare insieme. Ecco diciamo che adesso siamo così, un'intervista tanto per dire che la fiera si farà, più avanti ci troveremo dove spiegherete magari in maniera più dettagliata il programma, ci sono stati problemi, fatica a fare questa manifestazione perché sappiamo che parliamo di animali? Sì, no beh, sugli animali noi abbiamo problemi perché le persone sono preparate e quindi i problemi li abbiamo avuti un po', diciamo soprattutto la burocrazia come tutti, penso che questo sia, è molto impegnativa, devi stare molto attento, devi essere presente dappertutto e quindi questo è un po' il peso che ha la fiera di Osai oltre alla manifestazione, che quest'anno così ti do una chicca veloce e anche il sabato sera ci sarà una cosa, c'è un teatro in dialetto veneto, quindi iniziamo sempre con il venerdì la mostra, sempre in titta veneta, siamo sul nostro veneto, non so se hai visto quando il tetto era di pali e canna, quindi andiamo ai casoni, non quelli del mare, ma ai casoni nostri qua nella zona dell'entrotera, il venerdì sera, il sabato sera abbiamo detto, bo dai, 35esima, facciamo qualcosa in più, c'è un teatro, aperto gratuito, aperto a tutti, quindi sul dialetto veneto, che è quello che è domenica, la storita fiera. Ecco, l'amministrazione comunale è nuova, questa amministrazione come vi siete rapportati? Ma guarda, sull'amministrazione non c'è problema, noi non abbiamo mai avuto problemi con le amministrazioni, anche perché la fiera di Osai si è sempre comportata bene, quindi l'amministrazione non ha mai avuto nessun problema, nessuna amministrazione, questa sai, l'amministrazione nuova è un po' lì che tira un po' i fili, perché sai non è proprio entrata in merito su di tutto, perché è appena tre mesi che è insediata, e quindi, diciamo, però, stiamo lavorando assieme, non c'è nessun problema, anzi, diciamo che ho visto che il sindaco ha scritto due cose anche sulla fiera di Osai, quindi fa molto piacere che sia molto vicino e quindi è un grazie, è un grazie a lui, un grazie alla giunta che vedo che si interessa e cerca di essere presente, anche per vedere come funziona e anche alla regione Veneto. E non dimentichiamo, perché qua devo toccare un tasto molto importante della fiera di Osai, il volontariato, Annonne, le persone di Annonne, qua il volontariato è una cosa importante, allora io da Presidente devo dirla questa, Annonne quest'anno è tenuto a dare una grande mano, perché con 35 anni di fiera di Osai, quest'anno io spero che gli Annonesi, oltre a fare il solito, diano un qualcosa di più, perché siamo Annonne, Annonne con 3.000 abitanti, una cosa del genere non è da poco.